Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi voglio parlare di un argomento che è stato sollevato diverse volte nell'arco di questi anni. Mi sono stati scritti commenti, messaggi, email. L'argomento è abbastanza comune, è quello di come gestire un cavallo che ha paura quando si esce in passeggiato, oppure che tende a voler andare nel gruppo dei cavalli, quindi io non posso rimanere indietro, non posso sbrancarlo e andarmene per conto mio e via e via. Questo è un argomento che già in passato ho accennato un po' in alcune situazioni quanto sia complesso e laddove mi è stato chiesto di fare dei video ho spiegato che non è semplicissimo fare un video del genere perché prima di tutto dovrei avere un cavallo per le mani in quel momento che ha quel dato problema e poi dovrei anche metterlo in una situazione del genere e in quella situazione avere anche tutto il supporto per poter fare un video. Quindi non è proprio così, con uno schiocco di dita si fa. Mi ripropongo di vedere se riesco a farlo, però nel frattempo vi volevo dare un po' di informazioni che magari a qualcuno di voi può in effetti servire o comunque essere sufficiente per comprendere laddove poter lavorare per migliorare questa cosa. Il fatto sta che tutto inizia da un concetto abbastanza basilare, che il cavallo, che è una preda, tende ad essere codardo per natura. Come spiegano i miei corsi, nel loro mondo l'essere codardo è qualcosa che li tutela di più, cioè nell'arco della loro evoluzione gli individui che tendevano ad essere più codardi degli altri, quindi più paurosi degli altri, erano quelli che avevano più probabilità di sopravvivere. Quindi è tutta una questione legata a quanto il cavallo si sente sicuro in una data circostanza, quanto il cavallo si sente sicuro ad esempio dell'ambiente che lo circonda. Dovete pensare al cavallo, vediamo un attimo, vi ho fatto uno schemettino, disegniamo insieme uno schemettino per farvi capire meglio. Dovete pensare al cavallo come una spugna. Questa è una spugna che assorbe sicurezza. Quando è che deve assorbire sicurezza? Quando questa sua sicurezza non la trova in se stesso, ad esempio. Non la trova in se stesso e quindi è costretto a prenderla altrove. Dov'è che la può andare a prendere? Se ci riflettete un attimo è abbastanza semplice, no? Ci ho fatto anche un video in passato che non parlava di questo argomento in particolare, ma che se l'avete seguito sicuramente potete un po' recuperare un po' di argomenti che ho trattato in quel video là per capire meglio questo. Se non mi ricordo male il video si intitolava e di colpo il cavallo è un pazzì, comunque eventualmente ve lo metto qua sopra se lo potete andare a vedere. Si diceva, il cavallo è come una spugna e in certe situazioni che lo buttano fuori dalla sua zona di comfort ha bisogno di acquisire sicurezza. Se questa sicurezza non la trova in se stesso, la può andare a prendere da altre parti, come per esempio negli altri cavalli, negli altri cavalli che lo circondano, no? Per cui prende sicurezza dagli altri cavalli e riesce a, diciamo, superare quel suo stato di ansia e quindi a comportarsi con un cavallo, diciamo, tra virgolette, normale o come vorremmo noi, perché poi la normalità è molto soggettiva e quello che per noi è normale non è affatto normale per un cavallo, no? Si diceva prima, il cavallo è una preda. Se il cavallo per natura non avesse paura sarebbe estinto da un pezzo, perché chiaramente non avendo paura magari sarebbe stato esposto più facilmente a tutta una serie di pericoli. Quindi si diceva, il cavallo è una spugna, ha bisogno di trovare sicurezza per gestire una data situazione e questa sicurezza non la trova in se stesso e quindi la va a cercare, ad esempio, sugli altri cavalli che ha dintorno e l'esempio classico è dove io ho problemi a uscire in passeggiata da solo, però se vado insieme ad altri due o tre cavalli non ho problemi per uscire in passeggiata. Me ne vado, il cavallo avanti a me mi fa da apripista, io non ho grossi problemi a far seguire il cavallo davanti con il mio cavallo e quindi, diciamo, sembra che sembra tutto tranquillo, ok? Non vedo che ho problemi. Se io invece sono da solo, ad esempio, il cavallo da cosa può prendere questa sicurezza? Per esempio, può prendere questa sicurezza dall'ambiente. Cosa succede in questo caso? In questo caso il fatto di, ad esempio, uscire sempre nello stesso posto o comunque in un posto con cui il cavallo ha confidenza, mi viene in mente le persone che escano e fanno sempre il solito giro intorno al maneggio. È chiaro che poi dopo un po' il cavallo si abitua, magari le prime volte esce con altri cavalli, poi dopo piano piano esce da solo, il cavallo si abitua al posto, non trova più difficoltà a gestire quella situazione perché non è più fuori della sua zona di comfort, è un posto con cui è confidente, tutto ciò che vede più o meno lo riconosce e quindi sa che non deve avere paura e quindi piano piano questa cosa ci porta a pensare che il nostro cavallo non sia un cavallo pauroso o non sia un cavallo che ha bisogno di sicurezza perché me ne vado in giro e apparentemente sembra che sia tranquillo, che sia un cavallo come, diciamo, se avete studiato un pochino l'Orsenatis, sembra che sia un cavallo sinistro, un troverso, confidente, che non ha nessun tipo di atteggiamento di ansia o di tensione dentro di sé quando si trova in una situazione del genere. E questo ci spinge un po' a prendere delle cantonate, tipo, il mio cavallo è bravissimo, non ha nessun problema, quando è che andiamo a fare una bella passeggiata? Dai, andiamo a fare un trekking di due giorni sull'Appennino Tosco e Milano. E poi ci troviamo nei problemi perché il cavallo si trova in una situazione completamente diversa e quindi esce fuori che non può prendere questa sicurezza da se stesso, si diceva prima, ma neanche dall'ambiente. A questo punto la può prendere probabilmente solo da altri cavalli, ma anche lì si apre una parentesi. Altri cavalli sì, ma sono altri cavalli che conosce o sono altri cavalli che non conosce? È la prima volta che ci esce insieme oppure non è la prima volta che ci esce insieme? Tutte queste variabili fanno sì che il cavallo magari prenda sicurezza, sì, dagli altri cavalli, ma non con la stessa quantità e nella stessa entità rispetto che se fosse insieme al suo cavallo di riferimento o ai suoi cavalli di riferimento, che conosce già, di cui si fida. Com'è che faccio io a risolvere questa cosa? Cos'è che io sono sicuro di avere sempre dietro con me ogni volta che monto a cavallo? Eh sì, qualche d'un altro potrebbe dire la sella, no, potrei andare a girare anche a pelo. Qualche d'un altro potrebbe dire l'imboccatura, potrei montare anche senza imboccatura. Cos'è che porto sempre, sempre, sempre con me quando sono con il mio cavallo? Sono io. Quindi io devo fare in modo che il cavallo prenda tutta questa sicurezza dal suo leader umano. Il suo leader umano lo porta a, lo dovrebbe rassicurare a tal punto da farlo sentire sicuro anche quando non ci sono tutti gli altri elementi di cui si parlava prima. Ecco che allora a quel punto posso andare anche per la prima volta, da qualche parte dove lui non è mai stato, oppure posso andare anche con altri cavalli che non conosce e a un certo punto sbrancarmi e andare via per conto mio. Questo perché? Perché io gli do sicurezza, ok? Sicuramente la prima domanda che mi viene in mente è sì, ma se io non gliela do sicurezza come faccio. Per lavorare sulla sicurezza, cioè per lavorare sul fatto di dare sicurezza al nostro cavallo è un capitolo a sé, è qualcosa che se siete su questo canale, state guardando questo video, probabilmente avete voglia di apprendere, ma non è qualcosa che si esaurisce, si può spiegare con un video di 5 minuti o 10 minuti o anche mezz'ora. È qualcosa che richiede tempo, studio, applicazione, provare cosa funziona meglio per noi, cambiare tutta una serie di nostri atteggiamenti, imparare tutta una serie di tecniche e applicarle nella maniera corretta. Capite bene che non è una cosa che si fa in 5 minuti neanche in un giorno. È per questo che ci sono i corsi, ok? Perché io posso darvi tutte le informazioni del mondo, però insomma capite bene che in un video di pochi minuti non è che si riesce a dare tutte le informazioni che servono per riuscire a far sì che accada questo. Perché poi c'è anche un altro aspetto, l'aspetto di quanto io voglio cambiare. Vi spiego meglio. Se io voglio funzionare come leader umano per il mio cavallo e quindi dargli sicurezza, non posso pensare che ciò possa accadere semplicemente perché io mi vesto in una certa maniera, oppure ho gli stivali in sintonia con il sottosella, oppure io vado dal mio cavallo e tutte le volte che lo monto in campo gli faccio un mazzo così, poi dopo lo porto a mangiare 5 minuti. Non è quello. Non funziona così. Perché per il cavallo quando è che comincia a considerarci? Quando lui si accorge che noi lo consideriamo un cavallo e lo rispettiamo come un cavallo. Parelli dice che il cavallo si comincia a curare di te quando si rende conto di quanto tu ti prendi cura di lui. E prendersi cura di un cavallo non è spazzolarlo e renderlo più bello e col pelo più lucido e comprargli i paracolpi da 500 euro l'uno. Queste sono sciocchezze. Questo riguarda il nostro ego, riguarda quello che noi percepiamo nel nostro mondo, ma non ha nulla a che vedere con quello che interessa a lui. Io dico sempre, durante i miei corsi, avete la pazienza di prendere il vostro cavallo e andare in un paddock, mettervi a sedere in un angolo o anche nel mezzo e stare lì un'ora e mezzo con lui mentre che lui mangia l'erba. Cioè avete la voglia di farla, sta cosa qua? Oppure vi viene annoia dopo tre minuti e ve ne andate? Oppure dite, vabbè io metto il mio cavallo lì e poi dopo vado a un crebato, uso al caldo, mi bevo una cioccolata, chiacchiero con i miei amici, vedi quanto bene li voglio, l'ho messo là. Ma non funziona mica così con il cavallo. Non è che lui vi guarda alla stessa maniera se ve ne andate o se rimanete lì con lui. E se questa cosa la ripetete nel tempo, piano piano, lui vi comincerà a pensare come il suo compagno di paddock, cioè qualcuno con cui condividere del tempo e che sta in una situazione di comodità e di rilassamento totale. Quindi vi comincia a percepire un po' come in effetti dovrebbe essere, cioè un compagno di branco. Poi da lì, da essere compagno di branco a diventare suo leader, c'è ancora un alto scalino, ma intanto avete cominciato a mettere le basi. Se voi non applicate questi concetti veramente basilari, veramente minimi, diventa un problema diventare un leader per il vostro cavallo. Altra cosa importante, io faccio sempre le cose nella maniera corretta quando sono attorno al mio cavallo, perché sapete quello che dico tutte le volte, no? Voi insegnate, addestrate il vostro cavallo ogni singolo istante che ci state insieme, da quando lo andate a prendere nel box, a quando lo portate sul lavaggio, a quando gli pulite i piedi, a quando lo lavate, a quando lo sellate, a quando gli chiedete di stare fermo prima di salire in sella, a quando poi dopo scendete, e poi dopo riponete la sella, lo dissellate, lo mettete a posto, lo strigliate. Sono tutte cose che insegnano al cavallo ciò che siete voi, ok? Come lo fate, con quale atteggiamento lo fate. Avete delle reazioni di nervosismo quando montate magari o quando lo portate alla lunghina e il cavallo non fa qualcosa che voi desiderate. Tutta quella roba là è spazzatura che gli buttate addosso, perché tutta l'adrenalina, la rabbia che ci escono fuori in determinate situazioni, è chiaro che lui le percepisce come un'aggressione e come qualcosa che arriva da un individuo che lui non vuole avere dintorno, perché gli arriva delle pressioni, gli arriva delle cose brutte che lui percepisce come brutte, che fanno sì che lui non lo guardi con rispetto e sicuramente non lo guarda come un individuo da cui può prendere sicurezza. Queste sono cose che sembrano banali, ma non lo sono. Giustamente qualcuno di voi potrebbe chiedermi, ma allora come faccio io? Da cosa inizio? Allora, come ho detto prima, le cose da studiare sono molte, non le posso elencare semplicemente, perché ognuna avrebbe bisogno di essere trattata probabilmente in un video a sé? Io posso solamente dirvi questo, che al momento che voi cambiate paradigma, al momento che voi cambiate modo di vedere il cavallo e cominciate a vederlo più come un amico, più come potreste magari vedere un cane adesso, e più lui comincerà a cambiare il suo modo di vedervi. Questo fa sì che piano piano lui cominci a considerarvi come un membro del branco e piano piano che cominci a considerarvi leader. Quando è che vi considera leader? Quando voi cominciate a fare le cose per lui e non a lui. Ecco che comincia a vedere in voi una persona, un individuo, qualcuno del suo branco a cui magari dare della stima e di conseguenza dare del rispetto e di conseguenza prendere sicurezza quando lui ne ha bisogno. E lì cambia completamente. Quando mi scrivete, al mio cavallo mi dà problemi quando esco un passeggiata, mi tira via perché l'altro vanno avanti, io non voglio che mi tiri via, allora io lo fermo, lo giro, lo coso, lo qui, lo là. Quella si parla di tecnica e se la tecnica non è fatta su delle basi solide, è chiaro che è fallimentare in partenza. Quindi la tecnica la posso applicare quando ci sono le basi. Se ci sono le basi, e sono quelle di cui ho parlato prima, che sono fondamentali, sono proprio le fondamenta, posso applicare vari tipi di tecniche per creare comodo, scomodo, per insegnare al mio cavallo. Ma se non ci sono le basi, è come se io volessi scrivere, ma non ho la carta su cui scrivere, ok? Non posso pensare che ciò che faccio venga percepito nella maniera corretta dal mio cavallo e di conseguenza la volta successiva mi darà problemi maggiori e via e via e via perché andrà sempre a scovare la strada che lo porta a fare quello che vuole lui, perché per lui non ha un senso fare quello che chiedete voi, ok? Lo so, sono concetti difficili perché sono molto astratti, però fidatevi, se voi cambiate modo di interagire col vostro cavallo, se voi cominciate a dare più attenzione a ciò che per il vostro cavallo è importante, non quello che è importante per voi, automaticamente lui cambierà modo di vedervi e vi farà diventare piano piano prima membro del branco e poi, se fate le cose giuste, il suo leader. Avre una parentesi importantissima per finire questo pippone sul cavallo che ha paura. Il cavallo, Pet dice, il cavallo non può essere più coraggioso di quanto lo siamo noi, ok? Non possiamo pensare che il nostro cavallo sia coraggioso, è un animale che non nasce coraggioso. Può diventare esperto e quindi noi, dentro di noi, pensiamo che si esprime e fa le cose come se fosse coraggioso, ma tendenzialmente è perché ha avuto tante esperienze e di conseguenza riesce a gestire certe situazioni. Non esiste il cavallo coraggioso, può esistere il cavallo più o meno temerario quando approccia cose nuove, ma tendenzialmente nessun cavallo è coraggioso, proprio perché ce l'ha scritto nel suo DNA che deve scappare appena vede qualcosa che non gli torna, perché altrimenti ci lascia la pelle. Quello che volevo dire io con questa conclusione finale è che anche noi dobbiamo essere coraggiosi. Io conosco persone che hanno paura veramente che il cavallo le possa disarcionare, che le possa buttare in terra, che possa correre e vogliono che il cavallo stia tranquillo in qualsiasi circostanza. Non è così, non è possibile, perché al momento che il cavallo ha paura di qualcosa, se io sono il primo sopra a impaurirmi ancora di più, ovviamente magari non ho paura della stessa cosa che ha paura al cavallo, ma ho paura delle reazioni del cavallo, ma il cavallo non lo sa mica, non è che lui sa la differenza, lui sente semplicemente che in quel momento lui ha paura e sente che voi avete paura. Non ci credete che lo sente, andatevi a guardare un po' sia sul mio blog, sia sul mio sito, sia su alcuni video che ho fatto in passato, dove ho parlato delle ricerche scientifiche che hanno dimostrato che il cavallo sincronizza il proprio battito cardiaco con il nostro, e si chiama coerenza cardiaca, e quindi sente se noi abbiamo paura oppure non abbiamo paura, senza considerare poi l'odore dell'adrenalina, eccetera, eccetera, come succede per i cani, anche per i cavalli, si accorgano se noi abbiamo paura di qualcosa. Quindi al momento che lui ha paura di qualcosa, io ho paura di lui, è chiaro che lì è una situazione che da dove la deve prendere la sicurezza, da me non ho di certo, perché in quel momento non sono sicuro, di conseguenza lui si comporterà come madre natura gli ha insegnato, e quindi magari vorrà scappare a gambe elevate da quella situazione lì particolare. Lì subentra la tecnica, è come fare a gestire un cavallo, ma siamo già andati oltre, capite? Io sto usando una tecnica per gestire un cavallo in panico, ma siamo già andati oltre, è già andato in panico, io devo gestire la situazione prima, devo fare in modo che lui si fidi di me, almeno quel tanto che basta per darmi il tempo di intervenire prima di averlo perso, laddove poi dopo ho bisogno di intervenire, perché poi non è detto se il mio cavallo non ha paura, o meglio, se il mio cavallo è la prima cosa che fa, mi fa la domanda e che facciamo qua, lì sono una botte di ferro, perché a quel punto io potrò rispondere tranquillo, andiamo pure avanti, oppure tranquillo, sbranchiamoci da loro perché dobbiamo andare a fare qualche altra cosa, ma lui non è da solo, è con me. Lo so, sono concetti ancora una volta, ripeto, astratti, ma sono quelli che vi trovate tutti i giorni a gestire, soprattutto se uscite fuori in passeggiata, poi se siete tra quelli che lavorano sempre in campo, magari questa cosa qui la percepite meno, o magari la percepite solo quando passate vicino a quella siepe a cui non piace, che non piace al vostro cavallo, perché magari di là sente qualche rumore, oppure vi esce fuori solamente quando siete l'ultimi a rimanere nel campo coperto e tutti gli altri se ne stanno andando, ma sono avvisaglie che quel cavallo lì probabilmente nel campo da solo con voi non ci vuole rimanere, perché non gliene frega nulla a lui di voi, lui vuole stare con i suoi compagni, anche se poi dopo se li mettete insieme magari se le danno di santa ragione, però è sempre un concetto legato al fatto che voi non venite percepiti come un punto da cui attingere sicurezza, probabilmente non vi percepisce nemmeno, cioè non siete nemmeno nel suo radar, ma là dove vi percepisce sicuramente non vi percepisce in una maniera proficua per lui da cui attingere sicurezza. Se succede non vi preoccupate, è la normalità, cioè noi siamo predatori per loro, quindi è la normalità che ci considerino così, però nell'equitazione naturale, nei corsi che noi facciamo, spieghiamo proprio questo, spieghiamo proprio questo, spieghiamo a come fare a diventare un leader del vostro cavallo. Poi lì sopra ci piantiamo tutta la tecnica che volete, ci costruiamo tutti gli esercizi che volete, tutte le figure più belle che volete del dressaggio, del salto a ostacoli, del running, del cutting, di quello che volete. Quello però è in fondo, non dobbiamo lavorare su quello all'inizio, prima di tutto dobbiamo lavorare sulle basi. Ok ragazzi, spero di avervi dato un po' di cose su cui riflettere, spero che qualche uno di voi sia riuscita a spiegarsi il motivo per cui magari non riesce ancora a fare determinate cose con il proprio cavallo. Se avete delle domande, fatemelo nei commenti, oppure scrivetemi in privato, è indifferente, magari capisco che per alcuni di voi scrivere nei commenti magari mi vuole scrivere tanto, oppure vuole entrare un pochino nel privato, magari il commento non è il posto giusto dove metterlo, mi scrivete tranquillamente una mail in privato e io se posso, nel senso, se posso darvi qualche informazione, ve la do volentieri, altrimenti vi invito veramente a partecipare a qualche corso, perché non è la stessa cosa che vedere un video. Ci sono molti motivi per cui sto dicendo questa frase, magari poi dopo ve lo spiegano in un altro video, però è veramente una fra tutte. Noi quello che vediamo siamo portati a sopravvalutarci e di conseguenza quando andiamo a ripeterlo in campo con il nostro cavallo, pensiamo ad aver fatto la stessa cosa che abbiamo visto fare magari da me o da altri, ma non l'abbiamo fatta e di conseguenza, insomma, si sbaglia. Ok, niente, ci vediamo al prossimo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale, abbonatevi se vi piace, questi contenuti e anche molti altri che mettono nell'abbonamento. Ricordatevi che c'è l'MH Club, che è il club nostro, insomma, tutte le solite cose che del video sempre. Ciao, ciao!